Cari amici e amiche della grande famiglia Casa Du Menor, buona Pasqua! A Pasqua Gesù è risorto e da 37 anni, voi lo sapete, la Casa Du Menor fa risolgere e cambia la vita di migliaia di persone. Anche voi potete unirvi a questa avventura, per chi non l'avesse ancora fatto, ma avventura di riscattare e salvare vite. Non c'è cosa migliore, voi sarete felici, più felici se farete felici gli altri. Così sarà Pasqua nei vostri cuori, la risurrezione che aspettiamo per voi, per le vostre famiglie e per un mondo migliore. Buona Pasqua, buona risurrezione, grazie infinite, a presto!